C'è la YouTube di Luigi D'Avo. Come cambia lo scritto d'italiano alla maturità? Ecco, qui vedete una foto del professor Luca Serianni, che è un linguista, quindi è un professore universitario, famosissimo. Per esempio, famoso e conosciuto da noi, professore d'italiano, perché è un punto di riferimento. Quando pensiamo, ad esempio, alla grammatica, a come cambiare, migliorare, insomma, il nostro lavoro di docente, spesso facciamo riferimento a lui. Il professor Luca Serianni è stato invitato dalla ministra Fedeli, che era una volta ministra dell'istruzione, a far parte, forse a presiedere anche, una commissione per cambiare e riformare lo scritto d'italiano, la prima prova scritta all'esame di Stato, all'esame di maturità. E quindi lui adesso ci spiega che cosa hanno deciso in questa commissione, come è cambiato lo scritto di maturità. Prima di tutto facciamo una piccola premessa, perché magari voi non avete le idee chiare. Allora, cosa avverrà? Allora, ci sarà il vostro anno scolastico, alla fine del vostro anno scolastico ci sarà uno scrutinio, nello scrutinio della classe quinta vi sarà assegnato un credito scolastico. Attenzione, questo credito scolastico, però, deve essere tarato in un modo un po' diverso rispetto agli anni precedenti. Nel senso che si vuole dare più peso al curriculum, cioè al corso di studi, che uno ha fatto prima dell'esame di Stato. Capite? E quindi non solamente, che ne so, 25 punti di credito, ma che si vogliono dare 40 punti di credito. Quindi noi dovremmo ritarare tutti i punteggi dei crediti scolastici della terza e della quarta a segnare il credito scolastico della quinta in modo tale che uno possa avere addirittura fino a 40 punti di credito scolastico. Ok? Bene. Poi faremo lo scrutinio e sarete ammessi o non ammessi all'esame di Stato. Chi è ammesso potrà fare l'esame di Stato. L'esame di Stato consiste in tre prove. Dicevamo che agli inizi di giugno ci sarà lo scrutinio in cui voi sarete ammessi o non ammessi all'esame di Stato. Se sarete ammessi e speriamo che siete ammessi tutti quanti dovrete effettuare tre prove. Due prove scritte e un colloquio orale. Per ciascuna di queste tre prove avrete un massimo di 20 punti. 20 punti massimo per la prima prova che è quella che ci riguarda in modo particolare perché è uno scritto di italiano. Sei ore in cui dovrete scegliere fra sette tracce una di queste sette. da sviluppare. Poi il giorno dopo in genere un giovedì il giorno dopo ci sarà la prova la seconda prova e voi sapete qual è la materia caratterizzante di cui ci sarà la seconda prova e poi una settimana dopo almeno ci sarà il colloquio orale in cui potrete avere altri 20 punti. Il totale di tutto questo sarà massimo 100. Se uno avrà un credito scolastico molto buono e anche dei punteggi nelle prove scritte o nel colloquio orale è molto buono potrà accedere a un bonus e quindi si potranno dare dei punti in più. se uno avrà il massimo dei voti quindi 40 più 20 più 20 più 20 cioè 100 potrà avere la lode. Questo è a discrezione della commissione. La commissione come sapete è costituita da un presidente esterno più la metà di membri interni e la metà di membri esterni. Non dovrebbe cambiare questa cosa. Un'altra premessa. è stato stabilito che le classi quinte di quest'anno quindi voi in modo particolare dobbiate fare una prova in valsi. Il MIUR ha deciso di far svolgere le prove in valsi classe quinta a scuola superiore al computer. Quindi andrete nell'aula di informatica in una finestra temporale compresa tra il 4 e il 30 marzo. Per le classi campioni è la finestra più ristretta dal 12 al 15 marzo. Le prove che non conteranno né per l'ammissione né per il voto di maturità saranno tre di italiano di matematica e di inglese. Ecco era stato proposto qualcuno aveva detto si fanno le prove in valsi e le prove in valsi sostituiscono la terza prova sostituiscono il quizzone. Questa proposta è stata bocciata. Quindi le prove in valsi non sostituiscono un bel niente. Si fanno le prove in valsi solo ed esclusivamente come anche quelle di seconda per valutare la scuola per valutare il sistema scolastico non per valutare il singolo studente. Ok? Bene. Adesso passiamo all'intervista a Luca Seriani. Un giornale insomma ha intervistato questo professore e gli ha chiesto delle spiegazioni riguardo al nuovo compito d'italiano e Luca Seriani ha risposto così le due novità che abbiamo introdotto nella prima prova scritta non sono radicali ma nascono per rendere più razionale e utile questa prova che serve meglio a verificare la maturità e la capacità argomentativa degli studenti. Allora questa commissione ha deciso di puntare molto sull'argomentazione cioè che voi dovete essere in grado di discutere una tesi di sostenere questa tesi argomentare vuol dire dimostrare che questa tesi è valida e confutare magari tesi opposte raddoppiano i brani raddoppiano i brani della tipologia A analisi del testo una volta c'era un brano solo c'era una sola analisi del testo adesso ci saranno due analisi del testo la tipologia A della prima prova sull'analisi del testo continuerà a far parte della maturità 2019 l'unica novità riguarda il numero perché anziché un solo brano ce ne saranno due di altrettanti autori tra cui scegliere con autori a partire dall'unità d'Italia in prosa o in poesia cioè potrete avere un brano di Verga potrete avere un brano di Svevo di Pirandello di Ungaretti di Montale o potrete avere come successo negli anni precedenti brani di tanti altri autori del novecento che magari voi non conoscete come successo due anni fa c'era stato un brano di una poesia di Caproni l'anno scorso c'è stato un brano di Bassani eccetera eccetera non ci sarà quindi un brano né di Dante né di Manzoni né di Leopardi che sono gli argomenti che noi stiamo trattando in questo periodo nelle nostre ore di italiano sappiatelo quindi ci comporteremo di conseguenza non lo so però sappiate che le cose stanno in questi termini sparisce poi il saggio breve articolo di giornale ecco quindi dicevate che in tre anni vi siete un po' preparati sul saggio breve articolo di giornale non c'è più al suo posto ecco arrivare una nuova tipologia che si chiama il testo argomentativo che comprenderà tre tracce i ragazzi partendo da un unico testo per ogni traccia fornito dal MIUR e non più da tre o quattro testi cinque o sei come è stato fino all'anno scorso per il saggio breve dovranno esprimere una tesi da questa portare avanti un'argomentazione personale il resto si aggiusterà con l'esperienza questa ultima frase del professore Luca Serianni vuol dire una cosa per voi non molto carina cioè vuol dire voi fate la cavia cioè siete i primi a fare questo nuovo scritto d'italiano così noi dopo la vostra esperienza sapremo con molta più precisione come anche i vostri compagni che adesso sono in quarta in terza seconda sapranno molto meglio come sarà il nuovo scritto d'italiano perché ci sarà la vostra esperienza quindi vi ringrazio siete bravi siete davvero stati coraggiosi ecco a farci vedere a farci sperimentare come sarà questo nuovo scritto d'italiano complimenti per la vostra collaborazione attenzione i professori della nostra scuola la nostra scuola liceo Vico di Corsico hanno già elaborato una bozza di correzione della dei questi scritti nuovi d'italiano nuovi un po' vecchi nel senso che ci sarà un'analisi del testo allora noi abbiamo pensato visto che sono 20 punti a disposizione per questo ha un peso notevole la correzione del primo scritto del compito d'italiano ha un peso notevole il 20% del voto della maturità dipende dal compito d'italiano quindi avremo 20 punti a disposizione e quindi dovremmo considerare un po' di cose noi abbiamo pensato molto semplicemente andiamo a guardare 5 cose di queste 5 cose tutte le volte che l'alunno dimostrerà di averle fatte bene queste cose daremo 4 punti per ognuno di questi elementi in modo tale che se uno fa bene tutte 5 queste cose qua avrà 20 cioè avrà il massimo del voto nello scritto d'italiano queste 5 cose sono 1. il rispetto della consegna e la comprensione del testo cioè avrete un testo una poesia una prosa tanto per incominciare vi chiedono di fare generalmente analisi del testo ci sono delle domande la prima riguarda la comprensione che dovete capire quel testo oh se fate questo già potrete potrete avere almeno nella nostra scuola potrete avere 4 di questi 20 punti poi seconda cosa controllo delle strutture linguistiche ragazzi è un compito d'italiano ma da questa non sono dei rischi di valutare esattamente questo è quello che ti sto facendo vedere c'è una griglia di valutazione della prova scritta d'italiano questa griglia in realtà sarebbero 3 griglie una griglia per l'analisi del testo una griglia per il testo argomentativo e una griglia per il tema d'attualità ok questa è la griglia che adotteremo magari poi la cambiamo un po' però dovrebbe essere più o meno questa per correggere un'analisi del testo cioè quando voi avete un testo di poesia o di prosa l'analizzate praticamente dovete rispondere a delle domande delle richieste la prima sulla comprensione ma dovete farlo senza commettere errori di ortografia di sintassi capite se fate questo avrete altri 4 punti è importante anche la forma poi l'efficacia dell'espressione quindi i diversi registri linguistici il lessico specifico poi ancora l'analisi dei livelli e degli elementi del testo questo è fondamentale se questa è l'analisi del testo dovete sicuramente dimostrare di saper analizzare un testo appunto quindi il contenuto del testo senza altro le scelte lessicali le strutture stilistiche retoriche la funzione comunicativa per esempio in un testo è la parte centrale dell'analisi del testo è proprio l'analisi del testo vera e propria quando vi si chiederà se è una poesia si chiede non so la metrica le figure retoriche di aver compreso il significato ma non solo compreso complessivamente il significato ma andare a fondo ad esempio su quelle che sono le parole chiave di quel testo il messaggio quindi che vuole trasmettere quel poeta quello scrittore attraverso determinate parole determinati anche come dire determinati accorgimenti sia retorici oppure narrativi se c'è il discorso in diretto libero ad esempio per dire in un testo narrativo un racconto un romanzo infine abbiamo l'interpretazione complessiva agli approfondimenti conoscenza e rilaborazione dei contenuti quando farete l'analisi del testo la terza e ultima parte sarà quella proprio di approfondimento personale cioè di contestualizzazione cioè interpretazione diciamo così del testo quindi c'è sempre nell'analisi del testo ci sono sempre tre parti la prima è la comprensione la seconda è l'analisi vera e propria la terza è l'approfondimento interpretazione contestualizzazione per esempio mi sai dire questo testo che rapporti ha con gli altri testi dello stesso autore se conosci l'autore oppure che rapporto ha con i testi dei suoi contemporanei cioè di quelli che erano del suo tempo oppure che rapporto ha con le varie correnti letterarie con i vari movimenti letterari oppure che rapporto ha con altri testi che magari non hanno niente a che vedere con la letteratura e insomma anche che interpretazione possiamo dare un po' più soggettiva diciamo così quest'ultima parte anche di questa parte noi potremmo dare al massimo quattro punti bene passiamo adesso alla seconda tipologia abbiamo tipologia A che è analisi del testo tipologia B che è testo argomentativo in questo caso voi dovrete dimostrare comunque di aver capito il testo proposto allora ci sarà un solo documento non 4, 5, 6 come una volta ce ne sarà uno però quello dovete capire bene dovete dimostrare di aver capito quel documento che c'è quindi individuando tesi argomentazioni presenti nel testo proposto comprende il messaggio testuale tutta la sua complessità ecco in questo caso avrete anche in questo caso avete 4 punti cioè un quinto diciamo così della nostra valutazione del testo argomentativo riguarda il fatto che avete capito quel testo che c'è in fotocopia poi avrete il controllo delle strutture linguistiche anche in questo caso ricordatevi è un compito italiano quindi errore di ortografia di sintassi sintassi del periodo scorrevole punteggiatura usata in modo preciso poi efficacia dell'espressione ecco dovete dimostrare di esprimere come efficacia dimostrando conoscenza dei diversi registri linguistici usando consapevolmente in modo variato il lessico specifico e quello naturale organizzando il discorso in modo coerente e coeso ecco qui è un aspetto dove ci sono tante cose dentro ad esempio quando fate un compito italiano dovete essere coerenti potete dire una cosa all'inizio e poi alla fine dite il contrario cioè dovete portare avanti una tesi dovete essere coerenti logici giusto nei vari passaggi anche potete dire una cosa poi contrario il principio di non contraddizione di Aristotele lo conoscete sì o no poi argomentazione sostenere con sicurezza un percorso ragionativo evidenziando in modo chiaro la propria tesi e sviluppando ampiamente efficacemente l'argomentazione questo è il cuore del testo argomentativo la cosa principale che dovete saper fare dovete dimostrare è appunto avete una tesi deve essere chiara questa tesi non si capisce bene cosa state dicendo deve essere una cosa chiara poi sviluppata dimostrando portando elementi per dimostrare che quello che state dicendo è giusto è corretto anche qui se ad esempio dimostrate di aver letto altri testi ecco è molto positivo questo quindi voi dovete conoscere leggere dovete leggere il testo che c'è in fotocopia ma se poi mi dimostrate che conoscete testi di filosofi sociologi psicologi antropologi psicopedagogisti che su questo argomento hanno detto questo questo quest'altro va molto molto bene perché siete in grado di dimostrare la vostra tesi perché c'è un'autorità ad esempio che può essere a sostegno della vostra tesi ma che lo dico io per la prima volta l'ha detto anche Marcuse per dire sto dicendo adesso un filosofo il primo che mi viene in mente è così oppure l'ha detto Bauman perché Bauman ha scritto queste sono cose che Goleman cioè dovete tirar fuori anche nel compito di italiano dovete dimostrare di conoscere questi testi fondamentali approfondimento dimostra riflessione critica utilizzo efficace dei riferimenti culturali appropriati siete critici dimostrate comunque di saper giudicare o come ha detto il professor Seriani deve essere noi abbiamo eliminato questo maledetto termine ma di fatto ce l'abbiamo sempre nel cuore dovete dimostrare la vostra maturità che vuol dire che dovete dimostrare di saper giudicare le cose capite che avete un vostro punto di vista è un punto di vista maturo consapevole passiamo adesso alla terza e ultima tipologia la tipologia C per la terza tipologia avrete due tracce quindi ricapitolando avrete sette tracce due analisi del testo tre testi argomentativi e due di attualità totale sette fa sempre sette il totale però cambiano un po' capite rispetto al passato cambiano un po' i numeri no? però la somma la fine è sempre sette allora per la terza tipologia ci sono due tracce si parte da un argomento di attualità e si invita a fare riflessioni in forma argomentata ad esempio migrazioni integrazione piuttosto che ditemi qualche altro argomento di attualità ce ne sono tanti tantissimi anche di carattere economico possono essere questi i disequilibri le disuguaglianze sociali eccetera 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 ce ne sono tanti ahimè di argomenti di attualità ai quali purtroppo si è aggiunto ahimè quest'estate anche davvero la riflessione tremenda sulle nostre infrastrutture che hanno mostrato cedimenti ahimè quindi di argomenti di attualità ce ne sono tanti si invita a fare riflessioni in forma argomentata ecco il professor Seriani ci ha dimostrato ci ha fatto capire che interessa che lo studente questa parola magica la parola chiave di questo nuovo scritto di italiano è la parola argomentare cioè dimostrare no saper riflettere discutere su un argomento in maniera consapevole non un discorso a ruota libera però si richiede anche la divisione del testo in paragrafi ciascuno dei quali deve avere un titolo per far sì che il discorso abbia una sequenza ecco attenzione questa è una grande differenza nella tipologia C rispetto alla tipologia B tipologia B scriviamo tutto di seguito senza suddividerlo in paragrafi invece la tipologia C ci richiede di dividere in paragrafi di dare dei titoli tipologia A usate i numeri delle domande nella tipologia A avrete proprio domanda 1 oppure domanda 2A 2B 2C e seguite quel percorso anche l'anno scorso scusate mi hanno fatto l'analisi del testo e poi il ragazzo mi ha messo tutto insieme come fosse un tema e poi dovevamo stare lì a cercare scrivete nell'analisi del testo 2A 2B 2C 3 1 cosa vi costa? nella tipologia C dovete mettere voi i paragrafi dividere in paragrafi e mettere un titoletto ai paragrafi chiaro? il tema di attualità si fa però con i paragrafi con i titoli i sottotitoli dei paragrafi capite? il linguista il tema di attualità c'era già brevissima nella vecchia maturità però non c'erano i paragrafi adesso la novità è questa che nel tema di maturità la tipologia C ci devono essere i paragrafi ci devono essere i titoli capite? è come se lui ci dicesse insomma se gli anni ci dice fate una scaletta in modo tale che non sia un parlare così un po' a vanvera no? ci deve essere una scaletta logica però a questo punto la scaletta la voglio vedere almeno il titolo del paragrafo no? ecco ci chiede questa cosa qua c'è questa consegna noi dobbiamo seguire questa consegna se scegliamo il tema d'attualità dobbiamo mettere i titoli e i paragrafi se scegliamo il testo argomentativo no tutto di fila ma se scegliamo il tema d'attualità dobbiamo mettere i paragrafi con i titoli il linguista cioè Luca Serianni dà una valutazione positiva per la parte delle prove scritte sulla quale ha lavorato in questa riforma della maturità certo l'ha fatta lui in una commissione con i suoi colleghi per quanto riguarda il resto staremo a vedere l'esame di maturità è qualcosa che si deve aggiustare sulla base dell'esperienza non ci sono riforme definitive sono riforme che in corso d'opera sono riforme in corso d'opera l'obiettivo era verificare meglio la capacità dei giovani di comprendere e di argomentare addio quizzone e meno spazio all'alternanza scuola-lavoro bene chiariamo anche questi due aspetti non c'è più la terza prova non c'è più il quizzone detto così cioè non c'è quel testo con domande risposte aperte no non c'è più aveva suscitato giudizi diversi da un lato verificava conoscenze in più materie era positivo questo ma poteva andare incontro a oscillazioni cambiando da istituto a istituto le prove invasi per il docente ecco sì quindi in questione non c'è più non c'è più la terza prova basta voi non ce l'avete stop le prove invasi per il docente sono molto importanti ma si può considerarle non vincolanti per il superamento dell'esame di stato e quindi a primi basi la dovrete fare però hanno giudicato questo queste commissioni questi esperti che hanno elaborato il nuovo esame hanno pensato questo che non fosse vincolante per il superamento dell'esame di stato l'ultima domanda sull'alternanza scuola lavoro mi risulta che ci sono esiti molto diversi a seconda delle varie scuole c'è un massimo di utilità negli istituti tecnici una più dubbia nei licei conclude seri anni pertanto questi studiosi hanno pensato questo prima ad esempio con il governo precedente avevano pensato di introdurre fortemente l'alternanza scuola lavoro nell'esame di stato adesso sono tornati un po' indietro hanno detto che non deve essere così ecco così determinante così vincolante come avevano pensato in un primo tempo quindi è giusto è bello che voi facciate l'alternanza scuola lavoro ma più di tanto non condizionerà insomma il vostro esame tutto sommato tutto sommato scusate sarà fatto di quelle parti di cui vi ho detto in precedenza noi abbiamo elaborato una bozza di griglia di valutazione del tema di attualità cioè della tipologia C nel caso in cui un alunno quindi un candidato a giugno non sarete alunni ma sarete candidati candidati diciamo così decida la tipologia C anche in questo caso deve dimostrare attinenza alla traccia si attiene in modo esauriente alla richiesta della traccia attribuisce un titolo efficace e coerente col testo se la traccia come la tipologia C vi chiede di mettere i titoli allora dovete scegliere i titoli e questi titoli devono essere efficaci e coerenti utilizza in modo corretto la divisione in paragrafi visto che ha detto il prof. Seriani ha detto che nella consegna c'è di dividere in paragrafi dovete dividere in paragrafi utilizza in modo adeguato l'eventuale documentazione controlla con sicurezza l'ortologia mafossi in tassi efficacia delle esposte beh insomma gli altri punti sono un pochettino diciamo simili agli altri eh cioè scrivere in modo coerente e coerese o stabilire collegamenti confronti offrire apporti critici originali argomentati in modo rigoroso questi sono elementi che se volete abbiamo visti anche nelle altre griglie altri video didattici su a tuttascuola.it a tuttascuola.it a tuttascuola.it a tuttascuola.it a tuttascuola.it a tuttascuola.it